Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Cosa succederà? Perché lei pensa che ci vorrebbe un programma di razionamento e oggi anche dall'Europa arriva questa opzione, cioè di dichiarare lo stato di allerta qualora fosse necessario nei nostri paesi per diciamo obbligare, convincere la popolazione a ridurre di almeno del 15% la richiesta, la domanda di gas. Sono delle prospettive che fanno veramente tremare i polsi? Come sta veramente la situazione? Se sono programmate efficacemente direi che sono delle prospettive razionali. Così avvenne nel 73 dopo la prima crisi petrolera. Come funziona nel 2023 il razionamento dell'utilizzo del gas? Il razionamento avviene perché ovviamente non c'è la disponibilità di gas. L'Italia importava 30 miliardi di metri cubi dalla Russia, questi 30 miliardi sono insostituibili. Così i rovinetti del gas per le famiglie e per le aziende? Così funzionano? Esattamente funziona così. Funziona così nel senso che le aziende devono programmare l'utilizzo degli impianti quando l'energia costa di meno o quando è più efficacemente utilizzata. Le famiglie devono stare un po' più al freddo, utilizzare il riscaldamento di meno. Il problema è vero. L'autunno sarà un autunno tranquillo perché fa caldo e perché abbiamo gli stoccaggi pieni. E devo dire che da questo punto di vista il governo ha fatto benissimo, ma questi stoccaggi a fine gennaio, inizio di febbraio, incominceranno ad essere esauriti. E quel gas che c'era, il russo che c'era nella prima parte di quest'anno, oggi non c'è più dei quattro tubi al Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Ne funziona? Ne funziona. In teoria potrebbe essere utilizzato solo uno. La Germania nel giro di quattro mesi ha programmato l'inserimento di sei rigassificatori, uno dei quali entrerà in esercizio fra poco. E l'Italia ancora sta discutendo, c'erano le discussioni dell'altro ieri a Piombino, perché non vogliono il rigassificatore. L'Italia a fine febbraio, inizio di marzo avrà dei problemi seri. Quindi il rigassificatore di Piombino è cruciale? Ma assolutamente sì. E l'anno prossimo, poiché il gas russo non c'è, non sarà facile, anzi sarà difficilissimo riempire gli stoccaggi. Per cui giustamente dice Descalzi adesso che l'inverno successivo sarà ancora più difficile. Perché non si sarà possibile riempire gli stoccaggi. Quindi previsioni veramente inquietanti. Intanto Lolo Brigida, che è uno strettissimo collaboratore di Giorgia Meloni, nonché il cognato, dice auspichiamo l'elezione del Presidente del Senato domani. Auspichiamo. Allora, intanto... Allora, intanto...